ragazzi io chiudo qui la streaming è stato un piacere vi voglio bene a tutti grazie mille buona vigilia di natale auguri a mezzanotte cercherò di farveli sui social media quindi su facebook e instagram penso ve lo scriverò vi voglio un sacco bene ragazzi siamo quasi alla fine dell'anno di quello che è stata la mia carriera su twitch e ragazzi vi voglio un sacco bene siete come una famiglia per me mi fa molto piacere poter condividere quello che faccio con voi penso che se non avessi lo streaming forse non giocherei addirittura così tanto quando non sono con altre persone quando sono da solo quindi anche grazie a voi che mi tenete qui occupato rispondo alle vostre domande parlo con voi interagisco eccetera eccetera quindi vi ringrazio tantissimo per questo perché secondo me è una cosa molto importante perché poi si crea comunque un legame tra io che stream e voi che siete comunque lì in chat e poi magari ci si incontra pure a volte alle fiere o in giro quando sono da qualche parte e mi riempie di gioia questa cosa quindi vi faccio dei sentiti auguri come se foste i miei amici che foste qui fisicamente e ragazzi ci si sente penso domani farò uno streaming pomeridiano e non so la sera se farò lo streaming alla sera dopo cena non lo so per il resto come vi ho detto io sicuramente domani mi avrete il pomeriggio in streaming ragazzi un bacione ci si becca domani e andatevi a divertire andatevi a mangiare io stasera ho il cenone con i parenti poi le tombolate i vari giochi con i parenti e poi andrò a vedere i miei amici con cui ci scambiare i miei regali ragazzi un saluto vi voglio bene bella boys grazie ancora a tutti ragazzi buona vigilia a tutti e buon Natale ci si sente sui social media fino a domani pomeriggio bella ragazzi ciao ciao